Le sondesse che il numero 6 è della Ush di Laddins, numero che è già corretto dalla prima piatta, nemmeno addirittura al spirito del Carnacer, con articoli anche della piazza di Valle. Questa settembre il commentario di Pruma di Lucia Gross mette il luster valore sempre di mezzo del volontariato. Della piazza di attualità abbiamo dato conto della nuova composizione della sonda provinciale del sud Tirol, che si è presentato in Busan. A Trento invece le stanno la cerimonia che ha vert l'anno della città capitale europea del volontariato. E in c'è la conferenza stampa per presentare il gran evento sportivo e il programma su Sempelegrin ai 24 e 25 del Fire. Dalla piazza della Valbadia tolano fuori l'articolo sulla leggenda scontata sulla giaccia del Lake de Son Punt. E vi inviano a giverdera la piazza dedicata al Carnacer. Sulla piazza di Fassa siete accaiate con la radunanza della cooperativa dei Cianacei. e sotto il titolo è la neva dell'ANA del circo ricreativo della cooperativa dei Cianacei. Questa settimana già da Sonna Veieda l'attività dell'Amazon di Libras de Vic con la intervista a Barbara Pederiva. E a piazza trova un'altra due parole di due erbe da Megol. Tappenial è stata ricordata l'autore di Troppa Mascherides, con gli attori che si ha spruato un paladino. Sottitele la vista di neva scorsa del Engazz Ladin. Del liceo artistico l'Unione di Ladin sta sera sul progetto grafico di Ismaele Soraperra. Sapedele la rubrica del retrato da Indoi Nerk che stouta venda alla Val de Sora. Ince la redazione di Fassa mette insieme una piatta duta da Grignere, anche in realtà e invenzione. Sulla piatta della scuola viene scritta la mostra dell'Euregio che ha fatto tappa ince di Fassa e del spettacolo del teatro di studenti del liceo linguistico. Sulla piatta di Gardena è una intervista ai due presidenti della LIA Mostra d'ERT. Ed è stata una piatta dedicata alla curiosità di quest'Empmat. Dalla piatta di Fodom viene scritta la collaborazione tra i musei per l'Orida di Kelnif. Ed da Ampets viene scritta diversi per servizionare al gran evento sportivo delle Olimpiade. Dalla piatta del sport viene mettendo a lustra i risultati nazionali di atleti laddini del passato lungo. La selezione sull'usia per i piccoli atleti con i ski. E i risultati dell'atleta molto nato della combinata nordica. Sulla Ush di Ladin su ogni vendere potete trovare la neve seduta alla Ladinia. Per info e abbonamenti potete vi auguri alla redazione di Fassa su un stradone a San Gian. Telefon 0462 764545 Mail, Fassa, Sniecola, Laus.it Il Sfo interladin l'enche online sul sit laus.it Ote la bottega del Sfo esde tutta la valle. Grazie a tutti! Grazie a tutti.